mattina presto qui sono le 5 del mattino questa è l'ultima sfida del ride change sul machu picchu poi dopo ritornati a cusco tutta discesa a un po più di metà salita ed effettivamente si muore è durissimo un'ora e mezza di cammino sotto a gradoni così era un massacro questa è la salita e dove sono io il puntino blu e la c'è maciupiccio ancora un po ragazzi cazzarola altro che mercoledì con voi ce l'abbiamo fatta ultima fatica e poi con la guida questo è il cammino originale che porta fino a cusco sono 102 chilometri ed è tutto percorribile fantastico oh ragazzi durissima grazie 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 grazie